Padre? 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 Che? Buongiorno. Ah, tu sì. Sono venuta a confessare. E poi sono venuta per la spesa. In nome dei padri e figli e Spiritus Santus. Che peccati hai commesso, figliuola. Eh, assai sono, padre. Ieri... ho dato uno schiaffo a mio figlio. Non mi ha penca, ci ho dato. Allora... bicchiare... bambino... ti dà, mappini? Mappino, mappino. Quanti? Due. Allora, due... ti do... due paternoster... e due Ave Maria. Ah. Che altri peccati hai fatto, figliuola? Padre... ieri... mentre facevo la spesa... eh... ho detto una parolaccia al fruttivendolo. Allora... parolaccia... 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 figliuola. Eh... mi vergogno un po', padre. Ma sai cos'è? Per arrotondare le entrate della famiglia... mi sono messa... a masterizzare i DVD. Allo... masterizzazione... Allo... CD... MP3... DVD... DVD... Padre... DVD. Proprio DVD? Sì. Eh... ma che ti doverà? Scusa un attimo, figliuola. Sì, padre. Don Silvestro... Eh sì? Per una copia di DVD... lei che cosa darebbe? Beh... dipende... diciamo... se è fatto bene... anche 8 euro. Però... mi pensa se è fatto bene, eh... onestamente che... non ne dà tutti. Li stanno dando a 10. Sono fuori mercato, secondo me. Dai stessi... Ma chi che sta dando il DVD? È la signora. Il DVD sta dando... La confessione... Eh... prendiamo... no, prendiamo la parrocchia... prendiamo quattro città... non lo vedi? È lei che sta dando il DVD, signor? Sì.